Nel quadro delle attività volte all'approfondimento di usi e costumi delle minoranze etniche è stata organizzata presso la Casa delle Culture di Cosenza una mostra bibliografica sulla storia, le tradizioni e la linguistica delle popolazioni Arbresh. I volumi proposti provenienti dalla collezione di Giorgio Vincenzo Sammarra saranno esposti fino a sabato 21 aprile. E' un piccolo mosaico dell'attività nelle nostre comunità, c'è storia, c'è poesia, ecco è bello qui in una città come Cosenza questa presenza della nostra cultura Arbresh è un incitamento a non perdere la propria identità. Anche perché grazie alla presenza della parrocchia bizandina qui a Cosenza del Santissimo Salvatore questa nostra comunità possa trovare sempre maggiore linfa per sostenere la propria identità sia per il rito bizandino sia per la cultura Arbresh. La mostra bibliografica fa parte dell'iniziativa di un'attiva associazione Occhietti Neri che promuove eventi nel campo socioculturale. L'associazione Occhietti Neri che si fa promotrice di questa mostra promuove la cultura in ogni sua forma e incentiva la partecipazione dei giovani ma anche di tutte le fasce di età. In Calabria, a Cosenza dove ci sono molti soci ma anche all'estero, in Canada, in Bielorussia e in Italia abbiamo soci sparsi un po' in tutte le regioni.